Euripide, Ippolito. Il passo che oggi leggeremo e tradurremo si trova all'interno del secondo episodio e corrisponde ai versi 616-668. È la famosa tirata di Ippolito contro le donne, la resis, diciamo con termini più tecnico e specifico, la lunga resis di Ippolito contro le donne. Ippolito ha appena saputo dalla nutrice di Fedra che la sua matrigna, appunto Fedra, è affetta da una segreta passione per lui, è innamorata di lui e la reazione di Ippolito è terribile, non lascia spazio a una minima vibrazione di umanità, di comprensione per la donna. Ha una violenta reazione verbale contro tutto il genere delle donne che Zeus non avrebbe neanche dovuto creare. Il giovane inveisce quindi aspermente contro tutte le donne, in particolar modo contro la nutrice che ha rivelato l'insana passione della sua padrona e contro la matrigna stessa, contro Fedra. L'invettiva ricalca i tradizionali moduli e luoghi comuni della misoginia antica, la donna è inaffidabile, la donna è malvagia, ma non dobbiamo pensare che per questo Euripide vada attacciato di misoginia. Euripide è un attento conoscitore dell'animo femminile, ci ha descritto la donna in tutti i suoi aspetti. Accanto alla demoniaca medea noi troviamo la dolce alcesti e accanto a Fedra che è malata d'amore noi troviamo donne come macaria o come ifigenia. Quindi non cadiamo nell'inganno, nella trappola di liquidare Euripide come un misogino. Euripide è un attento conoscitore dell'animo umano, Euripide è uomo del quinto secolo avanti Cristo, quindi naturalmente agisce, si muove, pensa all'interno di quelle strutture di pensiero appunto, ma Euripide è un uomo che ha voluto scandagliare l'animo femminile per scoprirne la profondità. Ecco accingiamoci alla lettura di questo passo che è uno dei capolavori della letteratura di ogni tempo con la consapevolezza della grandezza di Euripide e della sua straordinaria modernità. Questi versi sono stati scritti in trimetri giambici e ne farò una lettura metrica. O Zeu, ti decib delon anthropoisca con. Giunaicas espos e liu catochisas, eigar broteion e celesse speraiche nos. Uc ec, giunaicon cren, para scestaito dè. All'anticentas soisin ennois brotus, e calcon e sideron e suberos. Paidon, priastai, sperma, tu time matos. Te saxias e castor, ente domasin. Per ora mi fermo qui e adesso comincio la traduzione. O Zeu, o Zeus. Ti, perché, de, perché mai? Il verbo è catochisas, che è l'indicativo dell'auristo di catoichizo ed è una seconda persona singolare. Quindi perché mai? Hai posto. es fosse e liu, alla luce del sole, gyunaicas, le donne, kibdalon bakon kakon, e vuol dire ambiguo malanno, lo metto insieme, ambiguo malanno e in mezzo, quasi incastrato fra queste due parole, è anzropoesi, per gli uomini, che sono agli occhi di Ippolito le vittime, per il cui danno, per il cui male, Zeus ha creato la donna. Ecco, mi interessa farvi notare la parola kibdalon, che vuol dire propriamente adulterato, ed è un aggettivo che afferisce alla sfera delle monete. La moneta è e kibdalon, la moneta può essere adulterata se non è costituita di un metallo perfetto. È la moneta falsa, quindi la donna è falsa, questo è un luogo comune, un topos della letteratura di ogni tempo. Ambiguo malanno è anche il titolo famoso di un'opera di Eva Cantarella, sulla condizione della donna dell'antichità. Proseguo. Eigar, se infatti, esseles, indicativo imperfetto di ezzelo, che vuol dire volere, quindi se infatti volevi. Ed è una seconda persona singolare attivo. Sperai, sperai è l'infinito dell'auristo del verbo spero, che vuol dire seminare, quindi se infatti volevi. Seminare, il genos, la stirpe concordata con genos è broteion, la stirpe umana. Uc-crenne. Allora, non bisognava, crenne è l'imperfetto della forma irregolare, che si può scrivere sia crenne che e-crenne, quindi non bisognava, oppure possiamo cominciare da crenne, bisognava, eh, paraschestai tode, procurarsi ciò, e paraschestai è l'infinito dell'auristo medio di Pareko, quindi bisognava procurarsi ciò, uc-ec-gyunay-con, non dalle donne all'a, ma, ma, sottintendiamo ancora, sottintendiamo ancora il verbo crenne, quindi bisognava, poi abbiamo una infinitiva, il cui verbo è questo qua giù, quindi priastai, e il cui soggetto è brotus, in accusativo, quindi abbiamo un accusativo più infinito, un infinitivo, quindi ma, bisognava, allora comincio subito col soggetto, che gli uomini, brotus, concordato con gli uomini, so, è antisentas, antisentas è il participio presente, accusativo, maschile, plurale, di antisemi, quindi che gli uomini, dando in cambio, antisemi vuol dire dare in cambio, quindi dando in cambio, en zoisi naois, nei tuoi templi, e cruzon, e sideron, e calcubaro, allora, tutti questi e corrispondono all'out latino, quindi, o oro, e sideron, o ferro, e baros, o, un peso, calcubaro, di bronzo, ecco, gli uomini, priastai, infinito del presente di pria, ma che vuol dire comprare, quindi comprassero, sperma, seme, python, di figli, è un passo veramente che fa venire i brividi. Ippolito sta dicendo che sarebbe stato molto meglio che nei templi di Zeus ci fossero delle banche del seme dove gli uomini potessero andare a comprare i loro figli senza bisogno delle donne. È veramente un passo che ci riporta violentamente alla nostra modernità, nella quale si dibatte di questi argomenti, che sono anche argomenti di carattere etico, i figli in provetta, la banca del seme. Ecco, Euripide, 2500 anni prima di noi, ha affrontato in modo provocatorio, in modo rivoluzionario, un tema di questo tipo, inserendolo all'interno di una visione onirica, quasi, di un mondo senza donne, in cui gli uomini potessero sopravvivere da soli, senza aver bisogno del grembo femminile. Quindi acquistassero sperma paedon, quindi seme di figli, tu, ecaston, parto da ecaston, ciascuno tu timematos del valore tes axias del prezzo pagato. Quindi ciascuno, tu timematos del valore tes axias del prezzo pagato. E ancora, sempre sottinteso, krenne, che quindi regge tutto quanto, ed è il verbo della principale. Quindi bisognava che, sempre sottinteso gli uomini, ecco, naien, quindi questa è una nuova infinitiva, che gli uomini, naien, abitassero, en domasin eleusseroisi, vuol dire in case eleusseroisi libere, poi seleion ater, ater è una preposizione che regge il genitivo e corrisponde a daneu, che vuol dire senza, e si pospone, viene qui posposta la parola a cui si riferisce, quindi ater senza, seleion senza donne. Nionde, ora invece, ora invece, mellontesse è il participio presente, nominativo maschile plurale di mello, che si costruisce con l'infinito, è di solito un infinito futuro, ma non necessariamente, può essere anche infinito presente, eccolo qua, axestei, infinito futuro di ago, mello più infinito, costituisce la cosiddetta perifrastica attiva latina, quella che in latino è formata dal participio futuro più il verbo essere. Quindi, mellontes axestei, apprestam, ora invece, mellontè, apprestandoci a axestei, a condurre es domus, a casa, è un plurale, ma noi lo traduciamo al singolare perché sta meglio, proton, prima, quindi da prima, apprestandoci, a condurre a casa, cacon, quel male, quel male di cui si è parlato prima, ecpinomen, è indicativo presente, indicativo presente, prima persona plurale attivo da ecpino, consumiamo, olbon, sarebbe la sostanza delle case, e quindi il patrimonio familiare, olbon, la sostanza, domaton, cennitivo plurale di doma, domatos, e vuol dire delle case, quindi il patrimonio delle case, quindi familiare. Tuto, de, delon, os, gyne, cacon, mega. Allora, tutto, cioè da questo, quindi da questa considerazione, delon, sottinteso esti, è chiaro, os introduce quindi una dichiarativa, è chiaro che, gyne, la donna, soggetto, il verbo essere ancora sottinteso, è tutta una frase senza, costituita da principale, secondaria dichiarativa, senza neanche un verbo, e quindi è una frase che ha un sapore quasi aforistico, proverbiale, quindi da questa considerazione, è chiaro che, la donna è, un cacon megan, un cacon mega, un grande male, l'espressione cacon mega, euripide, la trae da esiodo, che già a proposito di Pandora, aveva detto che era un grande male, un male per gli uomini. Proseguo leggendo in metrica i prossimi due versi, 628-629, prosteis caros peiras tecais trepsas pater, fernas apokhisos apallaxe cacu. Allora, traduco, gar, infatti, o speiras, dunque, speiras è il participio dell'auristo, nominativo, maschile e singolare, del verbo speiro, che abbiamo incontrato già sopra, che vuol dire seminare. O speiras è colui che ha seminato, quindi il padre è colui che ha seminato, cai trepsas è colui che l'ha allevata, trepsas è il participio dell'auristo, sempre nominativo, maschile e singolare, di trefo, e tutti e due questi participi sostantivati si riferiscono alla parola pater, quindi colui che l'ha seminata, che l'ha generata, e colui che l'ha allevata, il padre, quindi finalmente adesso spiega chi sia, quindi il padre, il te è un te enclitico, che io prendo e metto davanti, e che corrisponde a un que latino, quindi sia colui che l'ha seminata, anzi colui che l'ha sia seminata, sia allevata, cioè il padre, Prosteis, participio dell'auristo di Prostizemi, quindi nominativo, maschile e singolare attivo, quindi avendo aggiunto Fernasse, il complemento oggetto di Prosteis, è Fernasse, che è la dote, quindi Apokise, allora è apostrofato, perché si perde la epsilon davanti all'omega successiva, comunque Apokise, ed è un indicativo dell'auristo, terza persona singolare attivo, di Apoichizo, e vuol dire la manda ad abitare fuori di casa, è costituito da Apok, che dà il senso dell'allontanamento, e Oikia, che vuol dire casa, quindi la manda fuori di casa, os appallaxè, ecco, ci tenevo a dire un'altra cosa, questo è un auristo, ma nella mia traduzione, io ho messo la manda fuori di casa, l'ho tradotto con un presente, perché? Perché questo è un auristo di consuetudine, cioè tutti i padri, di tutti i tempi, a un certo momento, forniscono di dote le figlie, e le mandano fuori di casa, quindi si chiama auristo di consuetudine, che quindi io traduco con il presente. Questo os, è un os subordinante, è seguito da un appallaxè, che è un congiuntivo dell'auristo passivo, terza persona singolare, del verbo appallasso, appallasso che vuol dire libero, libero qualcosa, qualcuno da qualcosa, e questo qualcosa si esprime in genitivo. Questo è un passivo, quindi devo dire affinché, quindi qui il valore finale di osse è evidente, osse è una congiunzione, quindi di tipo finale, ossa appallaxè, quindi affinché venga liberato, cacù dal male, e ancora una volta ribadito, il fatto che la donna è un male, di cui anche il padre, dopo averla generata, dopo averla allevata, si vuole liberare. Continuo con la lettura metrica dei prossimi versi, Allora, passiamo adesso alla traduzione. De au, De è fortemente avversativo, ma, e au vuol dire d'altra parte, quindi ma d'altra parte, o è l'articolo che sostantivizza il participio, la bon, quindi colui che prende un participio dell'auristo di Lambano, lo traduzco però col presente, sempre per il discorso che abbiamo fatto prima, quindi siamo comunque all'interno di una situazione di consuetudine, e questo participio dell'auristo ha anche il valore della puntualità dell'azione con cui uno prende moglie poi, quindi colui che prende, colui che prende es domus in casa, il fiuton, il virgulto, e questo virgulto è ateron, cioè funesto, quindi colui, ma d'altra parte, colui che prende es domus in casa, il virgulto, il funesto virgulto, gheghez è un indicativo del perfetto di ghezzeo, che vuol dire godere, quindi gheghez è l'indicativo del perfetto di ghezzeo, e si costruisce con il participio predicativo, il participio del predicativo è prosti seis, che abbiamo sentito anche prima, ed è un participio del presente di prosti semi, quindi gode di aggiungere, gode di aggiungere che cosa? Un cosmon, quindi la parola cosmon, adesso cerco di collegare cromaticamente la parola, va con calon, quindi gode di aggiungere un cosmon calon, cosmon un ornamento calon bello, a che cosa? All'agalmati, agalmati vuol dire statua, alla statua, e con agalmati in dativo colleghiamo cacchisto, alla pessima statua, la collocazione delle parole è straordinaria, cosmon, il sostantivo cosmon che vuol dire ornamento, si riferisce all'aggettivo calon, cioè l'aggettivo calon si riferisce al sostantivo cosmon, e fra le due parole c'è sicuramente all'iterazione, e c'è anche omoteleuto perché finiscono nello stesso modo on, on, poi abbiamo agalmati che si riferisce a come aggettivo cacchisto, e fra calon e cacchisto, che sono stati volutamente collocati vicino, ci sono varie figure retoriche, abbiamo anche qui un nesso all'iterante calon cacchisto, e poi abbiamo un ossimoro, perché l'aggettivo calos, che vuol dire bello, è accostato a cacchisto, che addirittura è il cacose, il suo opposto al superlativo, perché cacchisto è il superlativo di cacose, quindi vediamo un lavoro proprio di cesello, con le parole che Euripide e compie. Quindi proseguo, e ekponei, indicativo presente di ekponeo, quindi e si affanna, peploisin, intorno ai pepli, cosa vuol dire si affanna intorno ai pepli? Vuol dire che l'uomo si dà da fare, lavora come un matto per garantire besti, pepli, abiti, quindi alle donne, e poi qui diustenos, infelice, è collocato proprio in incipit di verso, all'inizio del verso, per far sentire proprio tutta la densità semantica della parola, l'uomo, l'uomo che ha a che fare con una donna, è diustenos, infelice. Iupexelon, participio del lauristo di Iupexaireo, quindi Iu, notiamo le varie forme, i vari elementi che compongono questo verbo, quindi Iup, e poi abbiamo Ex, e poi abbiamo Elon, che come è noto, è il participio del lauristo di Aiereo, Iupexaireo vuol dire esaurire, quindi dar fondo, quindi esaurendo, è un participio del lauristo, ma io lo traduco col presente, esaurendo, Olbon, l'aveva già detto prima, Olbon domaton, quindi è una ripetizione rispetto a quello che aveva già detto, la ricchezza delle case, quindi il patrimonio domestico. lettura metrica dei prossimi versi, Ecei, da Nanken, Oste, che deus, Ascalos, Gampois, in Cairo, onsoze, taip, cron, lecos, ecresta, lectra, penzerus, danofeleis, labon, piezei, tagazò, togius, tuches. Bene, traduciamo. Ecei, dunque, ecei è l'indicativo presente del verbo eco, il soggetto di eco è l'uomo, l'uomo che ha appena preso la moglie, che si è sposato, quindi egli ha Ananken, una necessità, cioè egli subisce una necessità, l'uomo che si trova nella necessità appunto di sposarsi, subisce questa necessità. Oste è evidentemente una congiunzione di tipo consecutivo, quindi cosicché, chedeusas, participio dell'auristo, nominativo maschile singolare di chedeuo, che vuol dire imparentarsi, quindi chedeuo, traduciamo col presente, è un participio dell'auristo che vuole dare l'idea della puntualità, dell'azione, quindi lo traduco col presente, quindi imparentandosi con gambroisi, ne sono i congiunti, con calois, gambroisin, calois è l'aggettivo di gambroisi, e sono in jambaman, quindi sarebbe con buoni congiunti, quindi con gente buona, chiron, participio del presente di chiro, vuol dire godere, quindi godendo, sozetai, è l'indicativo presente, terza persona singolare, medio passivo di sozo, che vuol dire salvare, ma qua è meglio tradurre nel senso di si tiene, quindi godendo, quindi felice, è detto con ironia, felice e contento, si tiene, l'ecos è il letto picron amaro, allora che cos'è il letto amaro? È la donna, l'ecos vuol dire letto, quindi è l'oggetto che è maggiormente collegato all'idea del femminile, quindi il letto, ed è quindi una metonimia per donna, collegata al letto, però c'è la parola picron, che non dà adito a dubbi, che vuol dire aspro, amaro, e oppure c'è un'alternativa, e corrisponde all'out latino, quindi oppure, oppure la bon, cominciamo dalla bon, il participe dell'oristo di l'ammano, nominativo maschile singolare, quindi questa volta lo traduco col passato, quindi avendo preso, naturalmente in moglie, ecco c'è qui subito dopo il complemento oggetto, cresta lectra, ancora una volta è una metonimia, perché lectra è innanzitutto è un plurale, però è un plurale tragico, che io traduco col singolare, vuol dire letto, anche la parola lectrum vuol dire letto, come lecos vuol dire letto, e sono tutte metonimie per indicare la donna, è un plurale tragico, che quindi io traduco col singolare, quindi avendo preso una cresta lectra, quindi una buona sposa, il de' è fortemente avversativo, qui è molto molto forte, quindi lo sottolineo con una sottolineatura forte, ecco ma avendo preso, penserus anopheles, anopheles vuol dire inutili, e penserus parenti, quindi parenti inutili, quindi avendo preso una buona sposa, ma parenti inutili, eccolo qua, adesso abbiamo piezei, riportiamo però alla sottolineatura semplice, ecco qui, piezei, quindi soffoca, il to just you kes, la shagura, è un aggettivo sostantivato, costituito dal prefisso negativo, dius più tiucche, che dà l'idea della sorte, quindi la shagura, tagazò è una crasi per to agazò, quindi soffoca la shagura, to agazò, col bene. leggo in metriche i prossimi quattro versi, raston dotò to meten alla nofeles, ewezi a catoicon idrutaigune, soffende miso, me garenne moise domois, eie fronusa pleione, iunai kakre. Allora, dunque, raston, raston è il superlativo di radios, radios vuol dire facile, raston vuol dire cosa facilissima, o meglio, possiamo fare anche il relativo, quindi la cosa più facile, o meglio, la soluzione più facile, sottinteso il verbo essere, ee, otto è il dativo del pronome ostis, pronome relativo, relativo indefinito, ostis, in italiano ho bisogno di mettere prima del pronome relativo indefinito un antecedente, quindi la soluzione più facile è a quello, cioè a quell'uomo, otto, al quale, to meten, il nulla, sottinteso capita, quindi la soluzione più facile, è per quell'uomo a cui capita il nulla, alla, ma, ma, dunque, idrutai, è stata collocata, idrutai è propriamente l'indicativo perfetto di idruo, e vuol dire è stata collocata, quindi si trovi, e si trova, una ghiunè, una donna anofelesse inutile, catoicone in casa, e oezia per la sua stupidità, quindi in pratica, questi due versi vogliono dire, la cosa migliore capita all'uomo a cui capita una nullità, una donna che sia una nullità, ma poi c'è il contracolpo negativo, c'è il, diciamo, la controindicazione, ma poi si trova in casa una donna inutile per la sua stupidità, quindi, qui devo segnare idrutai, che abbiamo detto essere l'indicativo del perfetto medio passivo di idruo, propriamente vuol dire è stata collocata, quindi si trova una donna inutile per la sua stupidità, dè, fortemente avversativo, invece, misò, odio, è la forma contratta del verbo miseo che vuol dire odio, soffern, sottente esoghinaica, io odio, io invece odio la donna soffern, la donna saccente, la donna che sa, e infatti, gar, me, va con eie, ed è un notativo di tipo deprecativo, quindi esprime proprio il desiderio, quindi non, ecco, non vi sia, en, gemois, domois, il che è qui a valore limitativo, almeno nella mia casa, emois è un plurale, e anche, sì, va con domois, che è appunto un plurale, ma noi non diciamo nelle mie case, diciamo nella mia casa, rientra sempre nella tipologia del plurale poetico, del plurale tragico, quindi, infatti, non sia, almeno nella mia casa, una fronusa, sottentese o guinè, una donna che sappia, è un participio presente del verbo froneo, nominativo femminile singolare, che sappia che cosa, pleionà, quindi è un accusativo, del comparativo di polius, accusativo neutro plurale, quindi, che sappia più cose, e, in questo caso, fa il secondo, introduce il secondo termine di paragone, quindi sarebbe il quam latino, di quanto cre, convenga, che una, ghiunaica, che una donna, sottenteso fronein, il verbo di cui ghiunaica, è soggetto, lo ricaviamo dal fronusa precedente, lo metteremo all'infinito, come se fosse appunto fronein, quindi, non sia, almeno, infatti, non sia, almeno nelle mie case, una donna che sappia più cose, di quanto convenga, che una donna sappia, proseguo con la lettura metrica, togac gurgon, mallon, entic tecchiupris, intais sopaisin, ed amecano osgine, gnome, bracheia morian, aferze, crendeschi unaica, prospolon, menuperan, affonga dautais, sunc toiki zendache, seron, ineikon, mete, prosfone, entina, metex, keinon, segma, dex, stai, palin. Allora, traduciamo, il soggetto è Cipride, Cipride, Afrodite, a cui è cara soprattutto l'isola di Cipro, ecco perché è uno dei suoi appellativi, quindi, gar, infatti, Cipride, entic tei, è un indicativo presente, terza persona singolare, di enticto, cioè faccio nascere dentro, quindi, genero, instillo, quindi, infatti, Cipride genera, mallon, maggiormente, to, cacurgon, la malvagità, la perversità, è un aggettivo sostantivato, entai sopaisin, quindi, nelle donne intelligenti, nelle donne saccenti, quindi, Ippolito sta mettendo in guardia, contro le donne intelligenti, perché, alla loro innata malvagità, uniscono anche la malizia, ed è, invece, ed è fortemente avversativo, invece, la gyune, a meccanos, quindi la donna inetta, affairezze, affairezze, è un indicativo, auristo passivo, terza persona singolare, del verbo, affaireo, ed è qui, un auristo anch'esso, economico, di consuetudine, che quindi, io traduco con il presente, invece, la donna inetta, affairezze, è privata, è morian, è un accusativo di relazione, è privata, della follia, moria è la follia, nel senso proprio, dei sentimenti peccaminosi, che afferiscono all'ambito sessuale, quindi è privata, della sua follia, ed è un accusativo di relazione, dall'agnome bracheia, bracheia vuol dire corto, e gnome, vuol dire, in questo caso, possiamo usarlo nel senso di mente, di cervello, quindi dalla sua mente corta, cioè, se la donna sciocca, la mente corta, e la mente corta, il cervello corto, non può accogliere, la grandezza della follia, e dei sentimenti, peccaminosi, creen, è l'indicativo, è perfetto, terza persona singolare, della forma irregolare cre, e qui ha valore di realtà, che quindi lo traduco, con un condizionale italiano, quindi occorrerebbe, metto subito il che, perché abbiamo una infinitiva, il cui verbo è peranne, e quindi occorrerebbe, e il soggetto è prospolon, che vuol dire serva, quindi occorrerebbe, che una serva, non si accostasse, peranne l'infinito presente, da Pairao, che vuol dire accostarsi, non si accostasse, eschunaica, ad una donna, dè, ma, sempre sottinteso, occorrerebbe, che, sunka toikizein, è l'infinito presente, di sunka toikizo, ma che, abitassero, autais, con loro, quindi con loro donne, che cosa? afzonga, dache, allora, afzonga, mettiamo le due linette, che indicano il soggetto, della infinitiva, ecco, afzonga, va con dache, e le due parole, sono collegate, ma sono in forte iperbato, quindi, distanziamento proprio fisico, all'interno del verso, una all'inizio, e una alla fine, allora, l'immagine è piuttosto, complessa e articolata, dunque dache, propriamente, è un neutro plurale, da dacos, che vuol dire morso, quindi dache sarebbe, morsi, concordato con dache, sono afzonga, che vuol dire senza voce, quindi, morsi, muti, e zeron, che all'inizio del verso successivo, quindi qui tra dache e zeron, c'è un forte enzambamà, è il genitivo plurale, che vuol dire bestie, quindi sarebbe, morsi, muti, di bestie, un'espressione, molto complessa, molto articolata, e anche estremamente poetica, per indicare, animali, muti, che mordono, quindi, bisognerebbe, che abitassero con loro, animali, che sarebbe questo, muti, che sarebbe questo, ed ache, che sarebbe questo, che mordono, per renderlo in un italiano accettabile, ma letteralmente sarebbero, muti, morsi, di fiere, di animali, ina, è una congiunzione, chiaramente, finale, affinché, dunque, abbiamo, eicon, eicon è l'indicativo, imperfetto, del verbo eco, terza persona plurale, e questo verbo eco, è seguito da due infiniti, il primo, è pros, sponein, e il secondo, è dexastai, dunque, ricordiamo la regola, per cui, eco più infinito, ha valore di potere, quindi, affinché, non potessero, metto il non, perché poi, due, negazioni coordinate, tra di loro, le notiamo, abbiamo mete, che è in correlazione con sotto, in italiano, abbiamo bisogno, di mettere un non, pleonastico, quindi, affinché, non potessero, né prosfonein, né rivolgere la parola, tinà ad alcuno, né, dexastai, quindi prosfonein, è l'infinito presente di prosfoneo, dexastai, invece, è l'infinito dell'auristo di decome, quindi, né accogliere, execheinon, da quelle, un fsengm, un suono di voce, palin, a loro volta, quindi, se le donne stanno con delle mutefiere, non possono né rivolgere la parola, queste mutefiere, né accogliere parole, da parte delle mutefiere, è chiaro che Ippolito qua, se la sta prendendo, non solo con Fedra, ma anche con la nutrice, che è la sostenuta, che è andata a rivelare a lui, la passione morbosa, della sua padrona, e matrigna di Ippolito. Leggo in metriche i prossimi due versi, Niondè serve a riportare il discorso sul piano della realtà, il Crenn del verso 645 aveva avviato il discorso della irrealtà, e il Niondè invece serve a riportare il discorso sul piano della realtà, ora invece, Imen, esse, ai cacai, le malvagie, drosine, indicativo presente a terza persona plurale di Drao, compiono, endon, dentro, dentro casa, le cacà, buleumata, i loro malvagi intrighi, loro non c'è, lo sto mettendo io, notiamo il poliptotto, cacai, cacà, ai cacai sono le donne malvagie, cacà è un neutro plurale, che vuol dire malvagità, anzi qui è un aggettivo che va con buleumata, quindi malvagi intrighi, quindi qui abbiamo un poliptotto, cacai, cacà, exo, fuori, ecferusi, indicativo presente a terza persona plurale di ecfero, fuori li portano, e prospolo è il soggetto, le serve, quindi ad Atene le donne di una certa condizione sociale, stanno dentro casa, ed è dentro casa che ordiscono le loro trame malvagie, le serve invece possono uscire, possono andare al mercato, possono andare a fare acquisti, e loro quindi le serve portano i malvagi intrighi delle loro padrone, exo, quindi fuori casa. Leggo in metrica a partire da 6.51, quindi, os cais eugemin patros oca concara, lectrona sicton elses esse sionallagas, agoriot os nasmoisin exo morxomai, esolta cluzzon possar un eiencacos, os ud accusas toia d'acne vein docò, bene, passo alla traduzione, allora, os, come, cai, qui ha un valore molto forte, come anche tu, el, il verbo è elses, indicativo dell'auristo, di Ercomai, seconda persona singolare, sei giunta, ge, appunto, emin, da noi, che è un plurale poetico che sta per da me, notiamo qui la costruzione di Ercomai più lì il dativo, invece che il complemento di moto a luogo, come anche ora, appunto, tu sei giunta da me, sei giunta da me, oca, e poi abbiamo l'inciso che è il vocativo, oca con cara, sentiamo anche il nesso alliterante, molto cacofonico, oca con cara, cara propriamente vuol dire capo, quindi oca con cara vuol dire oscellerato capo, naturalmente qui è un assineddo che è il capo per il tutto, per la donna, quindi oscellerato capo vuol dire oscellerato, oscellerata donna, e poi, essessionalagas, è un complemento di fine, quindi per relazioni, sottointeso illecite, lectron con il letto, è un plurale poetico, io lo traduco col singolare, con il letto asicton, è costituito da alfa privativo, più la radice di sig, di singano, che vuol dire tocco, quindi asicton vuol dire inviolabile, intoccabile, patros, poi torniamo su, con il letto inviolabile, patros del padre, ago, ago è una crasi per a, pronome relativo neutro plurale, più ego, quindi sarebbe, le quali cose, ego io, rutois nasmoisin, con correnti nasmoisin, acque, exomorxomai, è il futuro, di exomorniumi, che vuol dire purificare, quindi, le quali cose, con acque correnti, io purificherò, e cluson, versandomi, versandomi, quest'acqua corrente, cluson è un participio presente da cluso, esota, nelle orecchie, quindi versando quest'acqua pura, nelle orecchie, pos, come, un, dunque, an, va con, eien, che è lottativo, del verbo essere, ampio, ottativo, a valore di potenziale del presente, quindi, come potrei essere, cacos, malvagio, io, è il soggetto sondinteso, io, os, pronome relativo, io, che, accusas, participio dell'auristo di acuo, nominativo maschile singolare, avendo udito toiate, tali cose, cioè tali parole, docò, penso, credo, è la forma contratta per doccheo, di, allora, agnewein, agnewein vuol dire, essere puro, quindi, di, ed è, diciamo, anticipato da questo Udè, che vuol dire, neppure, quindi, penso, di non essere neppure, puro, quindi, io, che vuol dire, soltanto ad aver udito queste parole, mi sento impuro, quindi, come potrei essere malvagio, io, che solo ad udire queste parole, non penso neanche, di essere più puro, questo è il significato della frase, agnewein è l'infinito presente, di agnewo, agnewo. Letura metrica, e udisti tumon, Deus ebese sozegiunai, e i me garorcois, son a fractos erezen, ucan potescon, mu, da dec sei pein patri, nion dec domon, men estam, ec demos, exonos, se Zeus apeimi, siga, dec somenstoma, se asomai, desiun patros molon podì, posnin, prosopse, caes, cae, despoina, zè. Passo alla traduzione. eude isti, il dè è fortemente avversativo, ma, isti, imperativo del verbo oida, quindi sappi, eu, bene, ma sappi bene. Tumon è crasi per to e mon, e sostantivizza eusebes, che è il neutro, aggettivo neutro, eusebes, eusebes, che vuol dire pio, quindi sarebbe l'essere pio, il rispetto verso gli dèi, quindi il mio rispetto verso gli dèi, gyunei, vocativo di gyunei, o donna, zè, zos, zosei, ti salva, quindi, ma sappi bene, il mio rispetto verso gli dèi, ti salva. E adesso si apre qui un periodo ipotetico di quarto tipo, cioè della irrealità, che ha la protasi costituita da eime e rezen, questa è la protasi, e invece la apodosi, che è costituita da uc an, l'apodosi è una principale, quindi la metto con uc an, e il suo verbo è escon, questo ci dà la possibilità di ripassare il periodo ipotetico delle irrealità, che si fa nella protasi con e, più indicativo dei tempi storici, in questo caso abbiamo e rezen, che è l'indicativo dell'auristo passivo di aereo, e nella apodosi abbiamo an, più indicativo dei tempi storici, in questo caso escon, che è l'indicativo dell'auristo di eco. Ricordiamo che in questo periodo ipotetico della irrealità, i tempi storici generalmente sono l'imperfetto per l'irrealità nel presente, l'auristo per l'irrealità nel passato, questa è la norma di carattere generale, ma poi all'interno di questa norma noi possiamo avere tantissime eccezioni, per cui a volte prevale l'aspetto, il valore aspettuale del verbo, per cui l'imperfetto serve a tradurre un passato, un'irrealità del passato, e l'auristo serve a tradurre un'irrealità nel presente, queste sono le eccezioni. Quindi passo alla traduzione, è un nominativo concordato con l'io sottinteso, quindi alla sprovvista di sorpresa, indifeso, orcois dai giuramenti, se on è un genitivo oggettivo, dai giuramenti sugli dèi, ricordiamoci che Ippolito aveva giurato alla nutrice di non dire mai quello che lei gli avrebbe detto, la nutrice prima di rivelargli la sorprendente verità, si era fatta giurare che non l'avrebbe mai detto, e lui si sente quindi vincolato da questi giuramenti, infatti poi abbiamo l'apodosi che ci dice, u can, an, pote, quindi u pote vuol dire mai, quindi non mai, quindi mai, escon, an escon, eco, seguito da due negazioni, vuol dire astenersi da, trattenersi da, quindi non mi sarei mai trattenuto dal ex Ipein, infinito dell'auristo di ec lego, e Ipein nell'infinito dell'auristo di lego, dal dire, tade queste cose, patrì a mio padre, niondè, l'abbiamo detto anche qui sopra, serve a riportare il discorso sul piano della realtà, qui siamo nel piano della irrealità, qui invece riportiamo il discorso sul piano della realtà, quindi ora invece, il verbo è Apeimi, che è l'indicativo presente di Apo Eimi, costituito da Apo Eimi, e ricordiamo che il presente di Eimi spesso si traduce col futuro, che in questo caso sta bene, ora invece, me ne andrò ec domon, dalle case, ma non si dice dalle case, è un plurale poetico, da questa casa, est an è una congiunzione, che vuol dire, una congiunzione di tipo temporale, che vuol dire, finché, finché teseo, che è qui, il soggetto, sarà, è sottointeso, quindi finché teseo, sarà, ecdemos, quindi lontano, xonos, è il genitivo di xonxonos, vuol dire dalla terra, quindi finché teseo sarà lontano dalla sua terra, exomen, è l'indicativo futuro di eco, prima persona plurale, quindi terremo, avremo la stoma, la bocca, siga è un avverbio che vuol dire in silenzio, letteralmente, quindi avremo la bocca in silenzio, vuol dire in pratica terremo la bocca chiusa, è chiaro che poi questo plurale, è un plurale poetico, Ippolito sta parlando di se stesso, quindi vuol dire, terrò la bocca chiusa, xeasomai, è l'indicativo futuro di xeaomai, quindi starò a vedere, molon, participio dell'auristo di blosco, che vuol dire andare, tornare, quindi essendo tornato, podì, dativo di pus podos, col piede, anzi, xun podì, xun più dativo, xun, quindi va con podì, con il piede patros del padre, quindi essendo tornato col piede del padre, starò a vedere, posse, come, quindi segue, se ausomai, regge questa interrogativa indiretta, come, e il verbo dell'interrogativa indiretta è prosopse, allora, posse introduce un'interrogativa indiretta, quindi una subordinata la metto in giallo, prosopse è l'indicativo futuro di prosorao, seconda persona singolare, medio, perché ricordiamo che il futuro di orao fa opsomai, quindi è già medio, e questa è una persona singolare, seconda persona singolare, come, e perché è seconda persona singolare, perché è concordato con ziu, ma in realtà i soggetti sono due, sono ziu e tesponezè, ricordiamo che lui si sta, Ippolito si sta rivolgendo alla nutrice, quindi starò a vedere, in pratica, una volta tornato il padre, come, come, lo guarderai, il nin sta per auton, quindi come guarderai lui, kai ziu sia tu, sia la desponezè, sia la tua padrona, allora in italiano non potremmo mai dire così, noi siamo costretti a dire come lo guarderete, sia tu, sia la tua padrona, invece in greco, si può concordare il verbo anche con uno solo, dei due soggetti, in questo caso appunto con ziu, Allora, traduzione, dunque, eisomai è il futuro di oida, quindi conoscerò, ghegeumenos è, ghegeumenos, anzi sto leggendo male, è il participio del perfetto di geuo, che vuol dire assaggiare, e il verbo assaggiare vuole il genitivo della cosa che si assaggia, quindi, avendo assaggiato, tesestolmes, la tua sfacciataggine, eisomai, la conoscerò, la conoscerò fino in fondo, poi, oloiste, oloiste è lotativo medio, dell'auristo, seconda persona plurale, di oliomi, quindi, è un'imprecazione, possiate morire, mison, upote, eisomai, emplestesomai, allora, upote, mai, emplestesomai, è una forma verbale che si trova molto raramente, precisamente, è il futuro passivo di empimplemi, quindi, letteralmente vuol dire mi riempio, quindi mi sazio, quindi, mai mi sazierò, e c'è il participio predicativo, che in questo caso è mison, il participio presente di miseo, quindi, mai mi sazierò, letteralmente sarebbe mai, sarà stato saziato, ma è terribile in italiano, quindi diremo mai mi sazierò, mison, è un participio predicativo, quindi metto l'infinitiva, di odiare, gyunaikas, gyunaikas, questo accusativo plurale, messo in incipi diverso, è chiaramente molto forte, mai mi sazierò di odiare le donne, udē, ei, neppure se, tis, qualcuno, fesi, dice, poi seguo in infinitiva, me, aei, legein, me è il soggetto di là, legein, che io, legein, dico, aei, sempre, sottinteso, la stessa cosa, quindi mai mi sazierò di odiare le donne, neppure se qualcuno mi dice che io dico sempre la stessa cosa, gar, infatti, un, dunque, poi, notiamo bene questo pos, allora, apparentemente ci sembra un pos accentato, però, ne abbiamo qua su un altro, e l'accento è diverso, perché il pos con l'accento, avrebbe l'accento circonflesso e vorrebbe dire come, quindi questo in realtà è un accento d'enclisi che ricade su pos, perché subito dopo abbiamo un'enclitica che è l'enclitica isin, la terza persona plurale del verbo essere, quindi il pos senza accento vuol dire in qualche modo, in un certo qual modo, quindi sempre, infatti, dunque, in un certo qual modo, cackeinei e crasi per cai e cainai, anche quelle, cioè anche le donne, eisi cacai, sono malvace, anche quelle sono malvace, quindi è inutile che qualcuno mi dica che io ripeto sempre la stessa cosa, faccio sempre la mia tirata misogena, sono le donne che sono sempre malvagie, non io che sono ripetitivo. Allora, egnun, allora questo e è in correlazione con l'e successivo, e vuol dire out out, quindi si pongono due possibilità, egnun qua sta per quindi, gnun con l'accento sta per quindi, 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 tis, qualcuno, didaxato, è un imperativo dell'auristo di didasco, che vuol dire insegnare, quindi, o qualcuno insegni out as a loro sofroneis, sofronein ad essere sagge, ecco, sottolineo anche sofronein, che è l'infinito presente di sofroneo, e didaxato, abbiamo già detto, è l'imperativo dell'auristo, terza persona singolare di didasco, didasco come doccio latino, vuole l'accusativo della persona a cui si insegna, ed ecco perché abbiamo out as, quindi, o qualcuno insegna a loro ad essere sagge, out, oppure, eato, è un imperativo del presente di eao, quindi, permetta, kame è una crasi per kai e me, quindi, e me è il soggetto dell'infinito e pembeinei, quindi, oppure, permetta, che anche io, kame, e pembeinei, quindi, mi scagli, sempre, a ei, taizde, contro costoro, quindi contro le donne. Bene, finisce qui, la lunga resis di Ippolito, vero e proprio manifesto di misoginia. Ciao a tutti!